ciao ragazzule belle come state ciao belli belli ragazzi ragazze allora nuovo video blog anche oggi come state spero bene dunque sono ancora in pigiama come potete vedere però mi sa che oggi sta tutto il giorno in pigiama non lo so spero di no perché sono già le 11 inoltrate quindi dovrei anche spiegare la vestire e nulla non ho idea di che video blog strutturerò oggi però ancora non sono né vestita né né messa a posto i capelli o i capelli sono quelli che sono però mi trovi dovrei truccare tutto quanto e ancora non ho cominciato la giornata la giornata tra l'altro è cominciata nel pezzo e io ancora sono lì a rimuginare su quello che devo fare vabbè da dettagli niente dovrei fare ancora il letto non so cosa vedrete voi ma devo fare ancora il letto lo facciamo vedere aspettate un attimo vedete si devo fare ancora il letto e niente ragazze era per dirvi che se non faccio il letto non so come fare boh intanto mi vesto che devo fare mi vesto e buona lì e per il tempo mi vesto in bagno dire di sì però non so se chiudere il video o si chiude il video ci vediamo dopo da ragazze anno non lo chiudo non so come farse no mi tocca per forza di cose chiuderlo dopo allora dunque ragazze rieccomi mi sono bella risistemata tutto quanto ho fatto solo un po le sopracciglia mi sono lavata la faccia nel frattempo anche l'ho fatta la mia skin che era orale e anche skin care per il viso nulla di che adesso niente vado in bagno non lo so dove se mi vado in cucina o in sala forse vado qua perché voglio truccare non ho ancora idea di cosa mi truccherò però forse rimango così boh volevo solamente mettermi la pena di di bronzer perché ho già fatto le sopracciglia e da lì sempre mio artista preferito che pubblica le stories va bene non voglio lamentare però potevi aspettare sto scherzando ovviamente e niente adesso io nel frattempo mi sistema con queste poi vediamo un po il resto oh mio dio che ho chi è io che ho no vabbè mazza che caldo che sta facendo qua dentro o sono io che mi sto sentendo male ma dubito perché sto benissimo mi sento benissimo anzi mai mai sentita meglio di così oggi boh e c'è un caldo fotonico con questo sembra felice delico fashion style va bene commento e ho un caldo allucinante con tutto questo vestiario addosso ho proprio un caldo fotonico vabbè ok poi 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 vorrei prelevare anche un po di blush se lo trovo un po di blush eccolo qua non metto non metto il rosetto perché non me la sento almeno un po di blush lo mettiamo sempre questo qua della rimel come potete vedere dal video ok illuminanti come se non ci fosse un domani se non si rompe ecco qua eccoci fatta a posto anche se non ho messo il correttore ma non importa tanto poi vabbè potrei anche mettere il correttore ma non c'è voglia la cacca devo dire niente ragazzo adesso vado a mettere un po di questo cos'è no mette una palette ma non la metto vado a prelevare un po di mascara che l'altro l'ho terminato quindi vado a mettere questo qui della rimel che cosa cavolo è questo volume estremo 003 black vediamo un po come fa questo mascara questo è della super speed non lo conosco questo mascara ma penso sia buono questo c'è lo scopino un po allucinante però vabbè ne prelevo poco perché voglio evitare grumule e cose varie che scopino un po allucinante di sguardo oh maria dolciante allora questo lo vedrete questo mascara qui lo vedrete nei prodotti terminati quindi nel genocchistino mi è piaciuto ma tanto bene parlare in un secondo video a parte bello come mascara dai via non è male e questo è stato il mio trucco di oggi ok nulla di speciale ok e niente dunque non so se uscirò o meno però mi sa che per oggi esco questo in casa non esco per niente appunto quella giornata non è il massimo boh vabbè si volevo uscire ma non me la sente ragazzi è inutile cosa scaffare non è il caso di uscire tra l'altro c'è un vento allucinante da ieri e niente boh però per vedere un po' d'allegria utilizzo questo qua tesoro d'oriente tè verde e verbena utilizzo un po' se mi riesce non è troppo me l'ho messo ok tè verde e verbena vedete quella vicina poi eccolo qua comunque vi ripetisco questo deltorante è bocciato in tronco perchè perchè mi fa fuzzare non lo so perchè non mi piace quindi devo comprare un altro al momento sto utilizzando questo della bombomalizia ed è buono fa un buon profumo ma raga quel deltorante non ci siamo proprio quello della A20U Thermal per carità questo è buonissimo e poi malizia ne vogliamo parlare è buonissimo poi per fare un po' di dolore scusate mmm che buono questo qua primo bacio buonissimo ma lo sto terminando siiii a voglio lo sto terminando un po' per pazienza Steffi grazie a te regalo troppo bello è stato Guarealo grazie mille di cuore bellissimo Guarealo veramente mi hai scaldato il cuore e l'anima grazie mille di cuore ciao ciao a tutte e e un altro video per fare come si può dire un altro video di fare prodotti finiti perché aspetto 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 apriate i prodotti che devo buttare dentro il cestino ma al momento non posso aspettare troppo farò video o faccio i prodotti finiti o i preferiti adesso decido un po' quando chiudo questo video niente ragazze ciao a presto un bacio ciao 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 ciao